Un concorso che alla seconda edizione, la prima edizione, l'anno scorso eravamo soli, abbiamo lanciato questa iniziativa sotto un'idea del maestro Eugenio Giordani che non è più con noi ma che ha lasciato in qualche modo un lavoro importantissimo a questa città che è quello di fare un concorso proprio per la sonosfera che potenziasse la composizione elettroacustica a livello internazionale proprio per questi spazi tridimensionali ambisonici. Abbiamo lanciato quindi questo concorso l'anno scorso e abbiamo avuto un ottimo risultato già per una prima edizione, per un'edizione zero, avere 77 candidati da 24 paesi fu già un grande risultato. L'anno in corso è stata invece proposta una collaborazione dall'IRCAM Centre Pompidou di Parigi che ci ha chiesto di condividere quest'anno l'organizzazione e la lavorazione di questo concorso. E però è stata grande l'interesse di Parigi proprio a cercare di seguire tutte le nostre istanze, il nostro modo di aver impostato questo concorso e si sono miracolosamente accodati a questa iniziativa a cui abbiamo dato forma nel segno e nel solco dell'iniziativa dell'anno precedente, quella appunto della prima edizione. I numeri sono raddoppiati, abbiamo avuto 149 candidature da 42 paesi del mondo che abbiamo messo in moto un meccanismo virtuoso per far capire al mondo che la musica elettroacustica può essere ascoltata in un modo molto molto specifico che è quello che la sonosfera abilita, ovvero essere dentro uno spazio buio, completamente buio, ed essere dentro uno spazio appunto di riproduzione tridimensionale dove la musica sta tutto intorno al pubblico, dove le sorgenti sonore, dove la prospettiva acustica è completamente diversa da quella di un ascolto normale in stereofonia o in altri standard. Quindi questa cosa ha pagato, siamo molto felici di poterlo fare per la capitale della cultura di cui questo progetto è parte. Grazie a tutti.